...doltre, insieme a questa direzione, a Gerda di Santa Antiochia, e viene montata da una parte salva da Tavani, da un nostro conterraneo, tra fornitore, e quindi dell'attività di Antiochia, che ha diffuso il gruppo, andrò con il mondo. Questa è la risorsa, la rispettività da Sant'Iochino, Papa, dell'antiversario della Littoria di Antiochia, portata dai consiglieri a Diochia, e attribuita all'aiuto della Santa Maria di Dio, in un carico che aveva scelto da Tavosaglio, nel 25 cento di settore. Questa promenorazione è di incitamento per tutti, a meditare sulle sedi di Cristo, sotto la guida della vetta vera e fermeria, la quale è associata a un modo tutto, a una carnazione, a una passione, e alla gloria e alla veda delle persone, e a un'unicità di Tavosaglio. E' un'unicità di Tavosaglio, ma noi, a andare in casa, a giurare così, a meditare anche sulle sedi, e con il Cristo, no? che noi riflettiamo, sulle nostre sedi, proprio nella visione di Tavosaglio. E' un'unicità di Tavosaglio. E' un'unicità di Tavosaglio che sia all'unicità di Tavosaglio e allaizia un'unica di Tavosaglio. E' un'unica di Tavosaglio. Ciao, dal punto diisan, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. 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 a tutti.